Ciao ragazzi, benvenuti al nostro canale Le avventure di Chloe Chi è questa Chloe? Allora, come vedete oggi siamo in palestra Abbiamo deciso di fare una bella challenge con degli esercizi Come vedete siamo sul tappeto, quindi la nostra prima sfida sarà Tu devi doppiare a me? Sì, però dobbiamo vedere che resiste di più a fare degli esercizi sul tappeto E poi dopo dobbiamo fare gli altri attrezzi Quindi, uno, due, tre, via! Così, prima, gamba, su, giù, su, giù E no, devi mettere le gomiti Sì, questa è la sfida Uno, due, tre, quattro 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 No, mi sa che io ho vinto Perché? Non l'hai fatta bene? Perché? Perché no? Vuoi mettere il mio? Ok, dai No, facciamo questa così Di fianco Dai, vai Uno, due, tre Via Uno, tre, quattro Uno, due, tre Fai bene Così Così E così Così E così Ok, dai Questa sfida l'ho vinta io Allora Per te? Eh sì, eh Perché non ce l'hai fatta Oh, oh, un attimo Nel giro così E fa più Loro di un quello là Ok, intanto Mettiamo a posto i tappeti Sì Perché? Perché L'abbete finciata Eh sì Poi li dobbiamo pulire Sì Con le salviette E queste sono le salviette E se ho una sosta Io non so cosa sa Tu vuoi non dire Se ho una sosta Che non lo so E tu non Allora Il monopartino Lo facciamo qua Sì E adesso Adesso ragazzi La prossima sfida E Dobbiamo fare Il tappeto Ok? Ok Dobbiamo correre? Sì Ok Andiamo Basta No Sei troppo veloce Abbasso un po' Ce la fai a correre? Sì Ok Basta 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 Ma io sono in dentro Perché se non ho fatto più Non ho fatto Vediamo un po' Lui è che corre più veloce Mi sa Un po' più Più Lontana Fai così Aspetta Brava Però mi sa che questa sfida La vinci tu Questa volta A te come sembra Bellissima Oh Manno mia Io sono proprio morta Sono proprio morta Tu invece Sì 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 Ma questo va sul veneto Come sanno Lo vuoi fare questo? Sì Ok Vai Sì sì Questo è l'ultimo eh Questo adesso decide Chi vince tra noi due Brava Vai Vai Uno Uno, due, tre, via, in avanti. Ah, è fatto pure indietro. Mi sa che già poi hai vinto la sfida, eh? È difficilissimo, è all'indietro. Brava! Mamma mia, è un po' belloce però. Io non ce la faccio, ho paura che cado. Ce la fai? Brava! Oh mamma, questo è, però, questo è proprio stancante, eh? No, io. Sì, sì. Io non ce la faccio, no. Questo è il tappeto, lo sto stancando. No. Sono pesanti proprio. Questo si può mettere, lo sono aiutati. No, io non ce la faccio. Uh, mamma mia, sono tutta sudata. Ah, ci posso sentire detto? Guarda qua, tu puoi sentire per me. Io non so come fare l'indietro, io non ce la farei mai. Eh, poi, poi me l'ha fatto su cosa. No, basta. Basta, basta, basta. Io rischio che cado. Fra poco cado. Non ce la faccio. Niente. Basta, purtroppo mi hai battuto questa volta, signorina. Sì, sì, ha vinto un po' bene. Che ha vinto? Io. Io. Hai vinto tu. Ah, e quindi, cosa facciamo adesso? Hai qualche sorpresa per noi? Io ho un'idea. No, io ho una bella idea. Ti ti tende. Tu puoi andare tutto se vuoi e poi io posso andare tutto se voglio. E ma dopo, dopo, cosa possiamo fare? Cosa c'è là fuori? La piscina. E quindi? Possiamo fare un bel barbecue. Sì, facciamo le verdure arrostite. Sulla piscina possiamo vedere sia lì, sia tonne, sia tonne, su fuori, due. Sì, la piscina possiamo vederla da lontano, dal barbecue. Ma dobbiamo fare il mais. Sì. Il mais. E poi facciamo... E la carne. E poi facciamo, poi facciamo, diciamo, fino a qui una salsa. Sì, comunque tu mangerai più mais perché hai vinto, ahimè. Tu, tu non mangi niente. Io no, non devo mangiare niente. Allora ragazzi, ci vediamo fuori col barbecue. E ci vedrete arrostire la carne e un po' di verdure. Noi andiamo qui e andiamo sia lì, c'è tonne di più. Lo rosse, andai sino dall'ipotale e sino dall'ipotale. Ok. Allora, intanto ci salutiamo e ci vediamo fuori. Ciao. A dopo, a tra poco. Ciao, ciao. Allora, come vedete la nostra... Stiamo facendo il mais. Sta sbucciando il mais. Noi abbiamo approfittato oggi. Qui c'è una bellissima giornata. Ho fatto la sesta. Ci sono 31 gradi. È una bellissima giornata e Chloe ha fatto la treccia. Puoi vedere la treccia? Wow. Guardate che capelli lunghi che ha Chloe. Sì, sono lì, le dette sotte vanno sino da qui. Si sono sciolti, sono proprio lunghissimi. Lunghissimi. È bellissimi. E che stai facendo di bello? Lo sbucciando il mais. Sta sbucciando il mais. Perché cosa dobbiamo fare dopo? Il mais. Dove? Al barbecue. Faremo il mais. È lì. Abbiamo acceso. E dobbiamo cominciare a mettere il mais, la carne e poi anche le verdure. Vedete com'è? C'è il fuoco. Intanto facciamo riscaldare bene. Finora c'è un po' di vento. Sono 350 farina. Guardate che è sopra il bubù. È duro quello? Sì. Vabbè, prova l'altro dal di sopra. Eccoci ragazzi. Noi abbiamo messo le verdure, la carne e il mais. Sei contento di mangiare il mais? Mi piace tanto. Il mais era tenerissimo. È molto... L'abbiamo pulito. Poi si è bussato tutto. Perché si è settato tutto. Perché è uscito tanto fuoco e fumo insieme. Poi abbiamo abbassato. L'abbiamo pulito. Sì. Non ti sa come saranno buone dopo. Soprattutto i peperoni sono buonissimi. Arrostiti. Poi vi faremo vedere come Chloe gusterà questo bel mangiare. Vero? Eccoci ragazzi. Ma c'è il pollo. Adesso mangi il mais. Purtroppo il pollo... Chloe non piace proprio tanto. Ha fatto un po' di storie per mangiarlo. Però alla fine hai fatto la brava. L'hai mangiato, vero? Sì. Invece il mais ti piace tanto, vero? Vediamo un po'. Com'è la tua tovaglietta? Diversa. Wow. Che bella. Pilaf. Hai visto? Pilaf. La. Sì, bella. E il mais com'è? Buonissimo. Eh? La tenero. No, ma no, mi piace tanto. Mi piace tanto. Ma è sempre due denti. Come? Due denti. È duro? Ma non credo che è tanto duro. Perché hai i denti da latte, forse. Allora... Con quello no. Con quello no. Allora, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace. E ricordatevi di iscrivervi al nostro canale, le avventure di Chloe. E... E... Ci vedremo al prossimo video. Ok? Sì. Ciao a tutti. Ciao. Un abbraccio da noi. Ciao. 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 Ciao.